ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video come al solito io sono io birillo oggi andiamo a far vedere un nuovo liquido vai birillo e sponici allora eccolo qui l'Original More Pies una torta alla pasta frolla con caramello salato e zucchero a vedro come si è sempre ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo già a 50 ml a zero la bella anche il packaging per io si abbiamo gente che arriva qua a casa come se non ci fosse domani vai gabri sul drugga e ghani io su ghani e apocalipsi now non è male sa però senti il salato si sente caramello salato un po si però in maniera invadente come non ti invadente io sento invadente questa salata si sente in botta questa salata è particolare deve piacere deve piacere era più buono lo smormore si era da 10 questo deve piacere deve piacere stiamo andando di male in peggio invece di migliorare stiamo andando non lo smormo più no perché non lo smormi più gabri perché dopo un po' il salato mi dà noia è stranissimo non ci sono abituato non ci sono abituato a questi tipi di liquidi siamo più per un altro genere però può piacere a noi non è che ci piace di più quell'altro lo smormore ci è piaciuto molto tanta roba questo qua lascia un po' a desiderare allora dalla tavola dello smap è tutto se vi è piaciuta lasciate un like iscrivetevi al canale ciao